Non l'avrai, è mio! No, perché pensi che sia tuo? Cosa c'è che non va, tesoro? I Megan non riescono ancora a farsi gli affari loro? Senti che parla! Se vuoi litigare, beh, litigheremo! Aspetta, mamma, questo è più pesante! Ora gli daremo una lezione! Mettiamoci giù! Oh, fagli vedere, mamma! Con grande piacere e fuoco! Attenta, cara! Ok, basta così, dammelo! Questo andrà bene? Abbiamo bisogno di qualcosa di più serio! Credo in te, tesoro, facciamogliela vedere! Oh, sto volando! Oh no! Ora sono tutta sporca e cos'è quello? Ok, bambini, questa è una sfida seria! Se ne occuperanno le vostre mamme! Non è la mia bambina! Andiamo! Oh, il prossimo turno! La sfida delle Pringles! È tutta la vita che mi preparo! Scusa, cara, sono Orbitz! Tocca a me! Io scelgo te! Anche queste non sono patatine! Non vedo più niente! Pagheranno per questo! Oh, credo che le patatine siano qui! Puoi aiutarmi? Certo! Ha funzionato! Wow! La vittoria è davvero buona! È molto croccante! Non agitarti troppo! Ora tocca a me! Scelgo te! Ho scelto quella vuota! Bisogna sempre ascoltare il proprio istinto! Sarà lui a guidarti! Tesoro, mi aiuti? Aspetta, c'è qualcosa! Vediamo! Wow! Un punto! Fantastico! E ora siamo pari! Ho fatto tutto bene! Credo sia la prima sfida! È così interessante! Vi faremo a pezzi! Che devo fare? Megan inizia e... Oh, accidenti! È come Squid Game! Credo di avere più possibilità perché pesa meno! A chi tocca ora? Oh, proviamo questo! Oh no! Accidenti! Credo in te! Non deludermi! Guarda! Guarda! Oh, quasi al centro! No! Mi batterò per noi! Oh, sembra che il problema siano solo quelli rosa! Ah! Forse questa volta devo provare qualcos'altro! È così difficile! Mamma, perché non le rendiamo le cose più difficili? Sì! Ho un'idea! Bisogna trovare il giusto vento! Allora diamogli un po' di vento! Wow! Ehi, che stai facendo? Oh! Mannaggia! Allontanati! Sei sulla strada della mia vittoria! Ora raggiungere il traguardo è più facile! Oh, è veramente un gioco da ragazzi! Meglio prevenire che curare! Beh, è sicuro? Abbiamo vinto! Un punto in più per la mia squadra! Il prossimo! Chi inizierà? Prima di tutto cerchiamo di capire cos'è! Wow! Una sfida con una scintilla! Mamma, non abbiamo mai firmato per questo! Non possiamo? Allora fate le brave bambine e non disturbate le mamme! Sono d'accordo! Voi giocate! Noi ci occuperemo di questo! Sei pronta a perdere? Oh no! Sarai tu a perdere! Allora inizio io! Funziona almeno! Oh, buono! Oh, non sembra difficile! Sei stata solo fortunata! Spero non sia veleno! Ah, ha un buon sapore! Ascolta! Forse le bambine si sbagliano e non c'è niente di cui aver paura! Non credo proprio! Forse c'è qualcosa di cui aver paura! Stai attenta a non bruciarti tutti i microchip! Oh, sembra fin troppo semplice! Non capisco! È scaduto? Oh, brucia! Hai finito? Voglio provare il mix! Ho qualcosa in bocca! Come ha fatto a non bagnarsi? Lo sapevo! Un'altra vittoria per noi! Non c'è del latte? Pesci davvero che sia la fine, Betty! Ti sbagli di grasso! Il prossimo! Dove sono i miei piragna? Forse lì dentro! Aspetta! Bisogna riempire d'acqua l'acquario! Sono pronta ad iniziare! Chi sarà la prima? Oh, sembra sia vuoto! Oh, oh! Allora ho una speranza! E ora tocca a te, Megan! È molto gentile da parte tua! Boom! Anche il mio è vuoto! Puoi riaverlo! Facciamola finita! Oh, no! Come facciamo a continuare? Lascia fare a me! Oh, basta! L'ho presa? Ce l'ha fatta! Scansione! Rilevata una minaccia! Lasciamo un ricordo per mercoledì! Spero che non le dispiaccia! L'ultimo è tutto per te! Aha! Farò in fretta! Wow! Che bella nuvola! Significa che la vittoria è tua! Congratulazioni, Megan! Grazie! Andiamo! È stato troppo facile! Anche senza forchette! Spero che la torta sia a basso contenuto calorico! Oh, torta alla senape! Suona bene! Oh, sembra anche creme brulee! Beh, buon appetito! Oh, che buona! Oh, ora tocca a te! Non volevo rovinarmi l'appetito! Bene! Adoro i piatti fatti in casa! Questi non li avevo mai provati su una torta! Li userò al posto delle candeline! Oh, delizioso! È così gustoso! Mio Dio! Dovevi ricaricarti! L'alimentazione di riserva è attiva! Oh, come hai osato! Beh, la mia vendetta è stata dolce! Il prossimo turno! Oh, temo che il nostro robot andrà di nuovo in cortocircuito! Sarà la prima! Vattene! Non farlo! C'è mancato poco! Mercoledì, dove sei andata? Ora sono pronta! Anche se perderò, non me ne accorgerò! Tu, pollo! Lascia fare a me! Banzai! Sei felice ora? Un po'! Mamme, guardate cosa abbiamo qui! Una pignata! Farò finta che sia mercoledì! Non vedo l'ora di picchiarla! Ah-ah! Ti piacerebbe? Dai, piccola! Fai un bel salto e colpisci! Puoi farcela! Sai cosa fare? Ehi! Ho qualcosa di meglio! Ok, ragazze! Iniziate! Ho capito! No! No! Sarò io la prima! Dove sono tutte le caramelle? Sono solo coriandoli! Ne ho trovata una! Anch'io! Ne voglio un'altra! Buona! Le tue guance si spaccheranno! Forza, piccola! Non ha alcuna possibilità contro di te! Vai! Forza, tesoro! Oh! Sono così piana! Non ho mai mangiato così tanto in vita mia! Dobbiamo contare tutto! Ok! È meglio se andate a sdraiarvi! Noi continueremo la sfida! Siamo pronte! Wow! Questa volta ci sono dei premi! Cosa riceverai, vincitore? Un iPhone? Non temere! Te lo porterò via! Ma prima devo riscaldarmi! Troom troom trick! È un buon inizio! Non puoi andare più in alto di me! Guarda e impara! Riscaldamento! Oh, sai! Credo proprio che volerò! Ciao! Dove vai? Torna con i piedi per terra! Non è divertente! So che hai messo gli occhi sul premio principale, ma sarà mio! La mia carica si sta esaurendo! È un bene che abbia con me un power bank! Ma è così grave che ho bisogno di ricaricarmi subito! Pronta! È il momento di vincere! Non sognarlo nemmeno tu, pezzo di ferro! Ahà! Parla col mio nuovo iPhone! Cosa? Hai perso un punto? Ma io ho vinto! Non è giusto! Avresti dovuto perderne di più! Ti raggiungerò subito! Chissà che sarà questo! Una sfida d'acqua! La tua preferita, Megan! Sono pronta! Iniziamo! Una palla di cannone, ma è vuota! Ahà! Pensavo sarebbe stato più difficile! Plap! Anche il mio è vuoto! Che tristezza! Proverò di nuovo! Ho fallito! Ahà! Asciugati le lacrime! Ho vinto! Cosa abbiamo qui? Spero non sia una multa! Proprio come pensavo! Un altro punto! Vittoria! Non emozionarti troppo! E ora è il momento del prossimo turno! Mamma! Ho contato! Ho dieci caramelle! Siamo forti, no? Non dirlo a nessuno, ok? Raddoppieremo i soldi! Guarda qua! Oh! Undici! Brava! Batti il cinque! I nemici sono finiti! Ah! Questi bambini! Posso avere la vostra attenzione? Il nostro sponsor ha qualcosa per i giocatori! Oh! Per chi pensate che sia? Perché qui c'è un punto bonus! Allora chi lo otterrà? Megan? O mercoledì? Oh! Chi lo sa? Ragazzi! Scrivetelo nei commenti! A chi dareste un punto bonus? Se sta a voi decidere! Noi siamo qui in attesa! Che succederà stavolta? Ho già visto questo gioco! Bisogna far rotolare la palla nel piatto! Non credo che tu possa riuscirci, Megan! Controlliamo! Bohu! Cosa? No! Ti avevo avvertita! E ora sistemiamo la tua faccia! Ehi, per favore! La super colla non ti lascerà andare così facilmente! Vieni qua! Ecco! Te la sei cercata! Vai! Ce l'ho fatta! Oh, coniglietta! Sei contenta? Hai riavuto le tue orecchie rosa? È semplicemente umiliante! Vai avanti! Sono pronta! Aha! Sì! Un altro punto! E tu che pensavi ti avrei perso? Sei stata fortunata! E eccomi qua! Per i risultati è incredibile! Perché il punto bonus va a... Ah! Ah, mercoledì! Congratulazioni! Me le sono meritata! Abbiamo una pentola magica! Tieni, tesoro! Wow! Grazie, mamma! Andiamo e stai lontana da queste perdenti! Ok, mercoledì! Sei fuori dalla competizione! E ecco che arriva la mia Barbie preferita! Iniziamo! Pensi di essere forte! Sei solo la mia copia! Sono migliore di te in tutto per tutto! Lo vedremo! Oh, rinfrescante! Ecco i coriandoli per la vincitrice! Non è il momento di festeggiare, Megan! Oh, cosa? Mi stai prendendo in giro? Aspetta! È tornata la nostra padrona! Barbie, da dove vengono tutte queste piume? Torna indietro! È stata Megan! Devi essere molto annoiata! Facciamo una sfida! Te lo dimostrerò una volta per tutte che sono la migliore! Spero che sia qualcosa di dolce! Evviva! Vieni dalla mamma! Sarete il vero gioiello della mia vittoria! Anche il mio metabolismo è migliorato! Oh, io non ne ho uno! Vediamo che mi riserva la ruota! Non è giusto! Ma va bene così! Ho fatto di peggio! Beh, un'altra ottima ricetta! Buon appetito! E tu, Barbie, l'avresti mangiata? La mangerò tutta! Guardami! Mi sento male! Passiamo al prossimo turno! Un nuovo gusto! Kiwi e panna è il migliore! Se tutte le sfide consisteranno nel mangiare torta, non hai alcuna possibilità! Non osare dubitare di me! Sono pronta a tutto! È una fragola! Che razza di giornata è questa? E va bene, mettiamoci la senape! Oh, deliziosa! E sembra anche salutare! Facciamolo! Oh, fa caldo qui dentro! Sei pazza! Andrei a fuoco! Oh, sei solo gelosa! Che altro posso fare? Oh, ci sono! Non c'è mai abbastanza panna montata! Che carino! E ora vediamo chi di voi due è più veloce! Non hai nessuna possibilità! Oh, che paura! Oh, cosa? Ridi finché puoi! Vediamo se riderai anche adesso! Richiesta di connessione! Successo! E ora voglio la rivincita! Ok, ti darò un'altra lezione! Ehi, che succede? Non male, eh! Hai organizzato tutto tu! Mi lamenterò! Lo farai dopo il prossimo round! Sì, questa storia ha bisogno di un drink! Dov'è la mia lattina? Wow! Spero di essere fortunata! Non c'è di che! Grazie! Ne sceglierò uno anch'io! È consentito? Non posso rimanere indietro! Sarà divertente! Ma da dove comincia? Oh, ci sono! Devo farlo prima di Megan! Oh, un sorso di delizia! Quanti litri mancano ancora? Oh, ha già finito! Forza, forza, Barbie! È stato fantastico! Sono un robot ecologico! Oh, ho mangiato la lattina! Il processo è quasi completo! Troom, troom, trick! E ora facciamo una foto per celebrare la vittoria! Oh, non vedo l'ora di vincere! Cosa? Ma che sta succedendo? Chi è un bravo criceto? Sei il mio piccolo Emmy! Oh, le mie mani sono piene di olio! Guarda, Megan è un mostro! Ci mangerà! È così spaventoso! Mi occuperò io di lui! Devo solo accelerare il processo! Basta così! Lavati quella faccia perché presto sarà appesa al mio caminetto! Non esiste! Prendi questo! Lo distrarremo! Giocheremo a Angry Bird! Pronta? Mira? Spara! Prendi questo, roditore! Nessuno ti vuole qui! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Siamo le migliori! Oh, dimenticavo! Abbiamo una sfida in corso! Andiamo! Niente torta stavolta! Se c'è qualcosa da mangiare, Barbie non ha alcuna possibilità! Chissà che cosa devo disegnare! Wow, Pikachu! Lo disegnerò io per prima! Vediamo se una macchina può creare un capolavoro! Come sta andando a Barbie? Oh, non sei all'altezza! Disegni come una bambina di seconda elementare! Sei proprio Picasso, vero? È il momento del piano P! Accendiamo la stampante! Caricamento e immagine! Pronto! Manca solo qualche ritocco! Ho dimenticato completamente le ombre! Ce l'ho fatta! Ma non puoi fare di meglio! Il mio Pikachu è migliore! Non capisci niente di arte! Ragazzi, scrivete qui sotto chi ha fatto il Pikachu migliore! Lo sai che sono stata io? Ok, qual è il prossimo? Sono pronta per qualsiasi sfida! Wow, guarda qui! Non potrai battermi! Sono composta all'80% di gomma! Beh, chi se ne importa? Farà di tutto per vincere! Entra avanti! Oh, accidenti! Vediamo se ora riesce a gonfiare un palloncino! Riesce a farlo come me? Non sfidare la fortuna! Il mio palloncino sarà il più grande della Terra! Ho intenzione di portarlo nello spazio! Dov'è, Amy? Barbie, ma dove stai andando? Dove hai preso questo palloncino? Torna a casa da Megan! Pensavo che non sarei più tornata! Oh! Sono di nuovo malfunzionanti! Avrei dovuto buttarle molto tempo fa! Ehi, Robo Bro! Che ne dici? Sfida di ballo? Perché no! Il mio ballo sarà tanto bello quanto tu sei orribile! I'm a baby girl! In a baby world! Megan fa schifo! Sono fantastica! Devo chiamare un'ambulanza o quello è un ballo? Fanno troppo casino! Mi scoppieranno i timpani! Puoi spegnerli, per favore? Ho un'idea migliore! Hai masticato tutto il tempo! La tua destra, la mia sinistra! La festa è finita! Questo è per te! Oh! Ecco le mie cuffie! Pensavo di averle perse! Ehi! Ma perché non riesco a sentire nulla? Ma che scherzo è? Bambole! Siete state voi! Non dovresti gettare le tue cose in giro? Una nuova sfida? Oh! Conosco questo gioco! Ti faccio vedere come si fa! Quali sono i premi? Beh, ce ne sono un sacco! Un iPhone! Proprio quello che voglio! Megan, guarda! Sta per vincere! Mi allungherò io per prima e... Wow! Sciocca! Non hai neanche capito come funziona! Sì! Ehi! Ma dov'è l'iPhone? Non vedi che c'è solo la scatola? Oh! Perché sono così sfortunata? Perché devi puntare più in alto! Basta con le caramelle e le cuffie per oggi! Non è così facile! Ci sei quasi! Ancora un po'? Ce l'ho fatta! Evviva! Ho di nuovo sbagliato! Megan! La vittoria è valida! In fondo è sempre il mio piede! Sei così odiosa! Doveva essere mio! Oh! Credo che ci aspetti un altro round! Che buono! Accetto la sfida! Mangerai persino la mia scarpa da questa fontana! Anche questo è buono! Che succede, tesoro? È ora di fare una nuotata! Vuoi provare? Anch'io volevo quel Kinder! Ma forse sarà fortunata anch'io! Oh, spazzatura! Non esiste! Qualcuno ha già provato? È un negozio di alimentari di seconda mano o cosa? Ok! Forse il cioccolato toglierà questo odore! Non far finta che sia la prima volta che lo mangi! Oh no! Che è successo? Sembra un pesce! Se solo fossi anche muta come un pesce! Non è divertente! Continuiamo a spingere! Ehi! Cos'è questo? È vuoto? Bene ragazzi! Ora giochiamo a basket! Un punto! Oh! Credo di sapere come si gioca! Dallo a me! Oggi sarò io la vincitrice! Ehi! Non pensare solo a te! Ce l'ho fatta! Facciamolo di nuovo! Sei gelosa? Questo è un bel problema! Megan! C'è un enorme orso che sta volando verso di te! Sta cadendo proprio su di te! Quale orso? Ok! Ho capito! Appena in tempo! Come ho fatto a non vederlo? Ora tocca a me prendere i premi! E credo che il principale sarà il mio! Wow! Questi muffin sono così carini! Ehi! Mi sono lavata le mani! Esatto! È una sfida a coppie! Devo chiamare Megan! Ok! Lasciami stare, montagna di peluche! Lascia che ti aiuti! Grazie! È ora di mettersi al lavoro! Sei pronta? Pronta! Oh! I premi sono sicuramente nascosti in questo forziere! Ma come facciamo ad aprirlo? Forse la chiave è in uno dei muffin! Allora il mio sarà quello più grande! Questo è carino! Vediamo se ci sono le chiavi! Nel mio ci sono solo le albicocchie! Risultato dell'analisi! Molto gustoso! Due mani! Doppia velocità! Gnammi! Hai trovato la chiave? Non ancora! E non fare quella faccia! Sono sicura che sia qui! Un attimo! Cosa? Ancora cibo spazzatura? Megan! Guarda! È divertente! Fammi provare! Gnammi! Fantastico! L'ultimo rimasto! Perché non l'ho fatto subito? C'è la chiave! Evviva! Ce l'hai fatta, Barbie! Woohoo! Forza! Abbiamo i premi! Sono sicura che ci sia qualcosa di molto prezioso qui dentro! E di sicuro sarà d'oro! Ma che cos'è? Forse c'è un errore! Megan! C'è un muffin con dei vermi dentro! Che schifo! Guarda! Oh! Una ricarica! Anche questo è croccante! Allora chi ha vinto? Scommetto che sono stata io! Oh! La nostra proprietaria non sembra avere tempo per noi ora! Forza! Gira alla tua sinistra! Avanti! Credo che questa sia la mia occasione! Ne ho abbastanza! Cosa? Chi ha chiuso la casa delle bambole? Dov'è la chiave? Eccola! Il mio biglietto per la libertà! Dove vuoi andare? Shhh! È un segreto! Bene, cara padrona! Non mi mancherai per niente! Di chi sono questi cervelli? Probabilmente di Marco Ledì! Questo spiegherebbe molte cose! Vediamo che altro c'è qui! Non riesco a capire che c'è in questo barattolo! Sembra molto fresco! Ma non sa di niente in realtà! Questa famiglia è ossessionata dal cibo in scatola! Oh, ecco l'unica pianta vivente in casa! Adoro gli ospiti! Ah! Sei fatta di gomma! Questi sono polimeri! Ma che cos'è questo rumore? Chiore! Non ho trovato nessun osso per te! Oh! Ciao! Mi serviva proprio un'amica! Non ti avevo mai visto da queste parti! Ehi! Non toccarmi! Resistere è inutile! Non posso fare a meno del tuo aiuto! Quindi la tua mano è sparita! E ora anche la tua faccia sta per fare la stessa fine! Stai sbagliando! Ti insegnerò che non conviene attaccare mano! Oh! Tutto questo non mi fa onore! Non mi serve una nuova mano quando passo a avere la mia, quella vecchia! Spero tu ti sia divertito e ora è il momento di ridarmi il favore! Se quella mano vuole strangolare qualcuno, non sarò certo io! Chissà che starà facendo mercoledì! Vediamo come mi tratterà adesso! Sembra che abbia di nuovo in mente qualcosa! Non riesco a vedere bene da qui! Attiverò la funzione occhio spia! I cespugli non sono un ostacolo per me! Sto per scoprire tutti i segreti di mercoledì! Dove avvicinarmi! Ops! Pax li sta di nuovo giocando con il cibo! Che succede? È un occhio vero! Oh! So anche a chi appartiene! Quella bambola mi segue dappertutto! Probabilmente l'hai spaventata! E quell'occhio? Non puoi nemmeno farci una zuppa! È ora di andare! È bello riaverti con noi! È meglio che io stia attenta ai miei ricambi qui dentro! Oh, fratello! Il nuovo giocattolo non potrà proteggerti per sempre! Vediamo che possiamo fare! Piccole corna come quelle delle capre! Perfetto! Questa è la ricetta più facile di sempre! Mi servono un paio di dita, un bulbo oculare! Avrei dovuto tenere l'occhio dopo tutto! E nessun taglio di capelli potrà nascondere queste corna! Fatto! L'importante è non versarselo addosso! Chissà che succederà adesso! Voglio vederlo! Preparati, fratello! E ricordati che non siamo in una favola! Dovresti ricordarlo anche tu! Oh! Ora sono come Maleficent di AliExpress! Oh, non c'era modo migliore per dirlo! Oh, quella bambola la pagherà per questo! I fiori smetteranno di pezzare! Che cos'è? Il pranzo? Forse ho bisogno di uno spuntino! Ma nel frigo ci sono solo ragni! E neanche una mosca? Come hanno fatto a sopravvivere? Non sto parlando della famiglia, ma io adesso che cosa posso fare? Ehi, non vorrei ricominciare! Oh! Una bestia da macello! Se non ti comporti bene, ti darò impasto ai ragni! E se non smetti di agitarti, ti legherò! Ecco di cosa parlavo! Aggiungiamo delle verdure così non ti sentirai solo nel forno! E... Il cervello, a proposito, che ho detto sulle dita? È per il dessert! Quante stelle Michelin avrà questo piatto? Ha un odore così strano che ho paura che... Lo partino via! Sale! Abbiamo finito anche quello! Toglilo e basta! Trucco del tungsteno! Cosa? Che ti ha fatto questo, Mano? Non muoverti, ti slegherò! Che nodo! È qui, signor Adams! Mercoledì! Voleva mangiare Mano! Un attimo, non è vero! Come puoi fare una cosa del genere? C'è un frigorifero pieno di ragni in casa! Quanti nodi! Non sono stata io! Io amo Mano! È stata Megan! Non tollero questo in casa mia! Sei in punizione! Va bene, mi occuperò di te, bambolina! Oh, non vedo l'ora! Sì, salutaci Spongebob! Ehi, che state facendo? Perché questa bambina è qui? Non c'è problema, voglio unirmi a voi! Sì, giù, giù! Vai a dare da mangiare ai pesci! Aiutano, sanno a dare! Avete sentito? Do tre stelle su cinque a questo parco acquatico! Gli attivisti del clima lo sanno? Ehi! Ci sta parlando! Forza, andiamo via! Megan, facci uscire! Hai finito di truccarti? Sì, grazie! È così accogliente qui! Vado anch'io lì! Ok, siete libere! Buona giornata, Megan! Ciao, ciao! Ehi! Dove stai andando? Devi restare dietro le sbarre! Ma perché? Perché questa è la prigione della bellezza! Va bene per le sirene, ma è un incubo per i nerd! Attiviamo la serratura principale! Non potrei scappare! Oh, che giornataccia! Perché sono così sfortunata? Wow! Che cos'è? Beh, visto che sono in prigione, è il momento di farmi un tatuaggio! Spero che sia temporaneo, come il mio soggiorno qui! E ora usiamo la macchina! Bip, ha funzionato! Ora sono cento volte più bella! Ma non sono ancora una sirena! Puzzle! Un ottimo modo per passare il tempo! Ma dov'è il pezzo? Trovato! Non l'avevo visto! Sembra un tesoro dei pirati! Toc, toc! C'è qualcuno? Wow! Ha trovato un tesoro! Dov'è l'oro? Wow! Ci sono solo gadget di bellezza! Per te quello è oro! È la chiave della tua libertà! Grazie, Sebastian! Cosa è qui? Ho capito! È un piano per diventare una sirena! Che bello! Finalmente so come fare! Molto intelligente! Beh, è ora che questo bruco diventi una farfalla! Ma dov'è Megan? Qualcuno ha esaurito la batteria! Dov'ero rimasta? Per prima cosa, liberiamoci dall'acne! Le sirene hanno sempre una pelle idratata! Sebastian, credo stia funzionando! E ora leviamo un po' di nerditudine! Cosa? La pubblicità non mentiva! Il 99% dell'acne è sparito e il resto lo toglierò da sola! Oh, mi hai spaventata! Potresti camuffarlo? Certo! Deve esserci qualcosa nella scatola! Avevi ragione, Sebastian! Adoro la body art! Spero che funzioni! Fatto! È ora di fare un test! Ce l'abbiamo fatta forte! Che bellezza! Riesco a pronunciare male con questo apparecchio! Togliamolo! Aiuto! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! E ci vediamo la prossima volta!